Per prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Angelina Mango, 22 anni, è la vincitrice dell'edizione di Sanremo di quest'anno. La vincita è avvenuta pochissimi giorni fa. Infatti il festival si è concluso sabato 10 febbraio intorno alle 2 del mattino. La ragazza ha vinto con il suo brano La Noia che è riuscito ad incantare il pubblico. Ad aver avuto una valenza sulla vincita, è stata anche la cover che la ragazza ha deciso di portare. In quell'occasione si è esibita con la rondine, una vecchia canzone di suo padre, il pubblico si è commosso per una scena da brividi. È stato molto toccante vedere la giovane ragazza che cantava la canzone di suo padre, lei era visibilmente emozionata, nonostante l'esibizione impeccabile. La ragazza in un'intervista rilasciata a Diva e Donna, ha parlato a lungo del rapporto con suo padre, alla domanda cosa direbbe papà mango oggi di lei, ha risposto che sarebbe contento, prima di tutto perché è una ragazza educata e gentile. Ha poi aggiunto che in questa settimana nonostante fosse sola a Sanremo, ha sentito il calore della sua famiglia, con la quale ha un ottimo rapporto. Ha infatti dichiarato che non l'hanno mai fatta sentire sola nonostante tutto. Sulla canzone la rondine, ha poi commentato che non la considera triste, ma ci vede una grande dolcezza, nonostante possa sembrare struggente. Mentre la cantava sentiva la sua anima accanto a quella del padre, ed è stata una forte emozione che è riuscita a trasmettere perfettamente al pubblico. Grazie a tutti.